Nella gazzetta ufficiale del 7 maggio è stato pubblicato il DM numero 327 del 6 aprile 2019, recante disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune di sostegno, le prove d'esame e i relativi programmi. Al momento si è ancora in attesa dell'emanazione del bando per conoscere le scadenze per la presentazione delle domande. Intanto vediamo chi potrà partecipare al concorso. Sono ammessi i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli. Titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. Diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale in dirizzo linguistico conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti comunque entro l'anno scolastico 2001-2002. Per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria è richiesto inoltre il possesso dello specifico titolo di specializzazione su sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia sempre ai sensi della normativa vigente. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione. Entro la data termine per la presentazione delle istanze e per la partecipazione alla procedura concorsuale. Per la preparazione alla prova preselettiva e alle successive prove, la Tecnica della Scuola propone alcuni corsi, e-learning e webinar su alcune tematiche delle prove. Per saperne di più, visitate il sito www.tecnicadellascuola.it. Area Formazione. E continuate a seguirci per restare sempre aggiornati su tutte le novità.